Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo a Sesto San Giovanni, una mattina di grande rilevanza calcistica. Oggi si gioca la finale di Coppa Italia categoria primavera alle 11 fra l'Inter e la Roma. Noi invece di Calcio Social siamo sempre a Sesto San Giovanni, però a seguire la prima edizione del torneo internazionale Yacht Cup, categoria esordienti 2006. Tre giorni di full immersion calcistica riservata al calcio giovanile. Squadre blasonate, adesso vedremo la partita che si giocherà fra pochi istanti fra il Ranger Glasgow e il Mariseto di Prato, Toscana. Quindi un test molto impegnativo per i ragazzi del Mariseto che si trovano di fronte a una delle società più blasonate, anche se a livello giovanile della Scozia. Ricordiamo che anche Gattuso ha militato in Scozia, nel Glasgow. grande entusiasmo fra i ragazzi. proprio per questa sfida internazionale. Pag Runneri. Pagàcies. Pag grazie 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 bravo bravo era bella parlatevi tra di voi parlaratevi dai e dai dai grazie bravo no bravo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti